Prima di invocare su di voi la benedizione del Signore, desidero annunciare che il prossimo 13 settembre intendo recarmi pellegrino al Sacrario Militare del Re di Puglia in provincia di Gorizia per pregare per i caduti di tutte le guerre. L'occasione è il centenario dell'inizio di quella enorme tragedia che è stata la prima guerra mondiale e dalla quale ho sentito tante storie dolorose delle labbre del mio nonno che l'ha fatta sul piano. Grazie a tutti.